Il Duomo di Siena, altrimenti detto Cattedrale di Santa Maria Assunta, è un'importantissima struttura architettonica che risale all'Alto Medioevo tra il 1220 e il 1370, infatti è datata la sua costruzione. Il grandissimo Vasari l'ha così definito nel 1568. Al più bello e al più grande e magnifico pavimento che fussi mai stato fatto, parlando proprio del pavimento tarsiato di questa struttura architettonica preziosissima, in cui sono rappresentate circa 60 scene e 40 artisti hanno partecipato alla composizione di questa magnifica opera, tra cui il Pinturicchio o il Sassette. La peculiarità delle scene raffigurate in questo Duomo, in questa Cattedrale, è la compresenza di aspetti pagani e aspetti cristiani che sembrano un po' andare contro quello che è il normale processo che si ha all'interno delle chiese in generale e dei luoghi di culto cristiani. È proprio la compresenza di elementi pagani ed elementi cristiani a suscitare nello spettatore il senso di mistero, già a partire dal tipo di colore utilizzato. Infatti abbiamo l'alternarsi del rosso, del nero e del bianco, che rimandano alle tre più importanti fasi, se eliminiamo la citrinitas, di quella che è la grande opera, ovvero l'opera alchemica, cioè un processo di perfezionamento spirituale che avveniva in tempi antichi anche attraverso i metalli, la lavorazione dei metalli, e che necessitava di una perfezione spirituale per potersi mettere all'opera e tentare la grande trasmutazione alchemica. E qui abbiamo quindi le tre fasi, che sono la albedo rappresentata dal bianco, la nigredo dal nero e la rubedo dal rosso. Ma la cosa che coglie di più l'occhio è innanzitutto l'ermete trismegisto, l'ermete tre volte grande, che è rappresentato proprio in una delle cinque tarsie centrali, ed è stato così raffigurato da Giovanni di Stefano nel 1488. Appare una scritta proprio sotto ermete trismegisto, dove c'è scritto contemporaneo di Mosè, e naturalmente essendo una figura mitologica che si perde nella notte dei tempi è molto difficile, è molto curioso questo accostamento tra Mosè e ermete, che invece appartiene ad una tradizione esoterica, alchimistica, egizia. E dall'altra parte abbiamo questa figura di ermete che consegna un libro aperto, con la sua mano destra, a un uomo barbuto, il quale rappresenta probabilmente l'Oriente, perché ha un turbante in testa. E un altro uomo assiste alla scena, e dato anche il suo tipo di vestiario, sembrerebbe essere un uomo occidentale del Quattrocento, perché ha questa tunica caratteristica. Su questo libro aperto c'è scritto Suscipite o Likteras et Leges Egipti, che può essere tradotto in diversi modi, ma ritengo che la migliore traduzione sia quella di Accettate, Suscipite, le ottime. Quella O significa ottimo, è un modo con cui gli antichi decidono definivano e scrivevano la parola Optimus, le ottime scritture e leggi degli egizi. Quindi accettatele, è un passaggio della sapienza da parte di Ermete Trismegisto, questo grandissimo uomo spirituale che passa la sua sapienza contenuta nel libro tanto all'Oriente quanto all'Occidente, facendo sì che quindi altre popolazioni, altre culture possano fruire di questa grandissima sapienza di origine divina. Sotto questa rappresentazione noi troviamo questa scritta. Dio, creatore di tutte le cose, creò un solo Dio visibile e questo fu il primo Dio che egli fece è il solo in cui si compiacque, ed egli amò suo figlio, chiamato il Verbo Santo. Con un riferimento al Vangelo di Giovanni, al Logos che si fa carne, viene qui rappresentato attraverso questi brevi versi poetici la figura di Cristo, che però non sembra apparire nel dipinto, ed ecco qui che ritorna quella commistione tra paganesimo e cristianesimo. Nella seconda Tarsia centrale troviamo invece quelle che sono definite la lupa senese e i simboli delle città alleate di Siena. Questa Tarsia è originaria del 1378. E qui troviamo i simboli di queste città, tra cui Pistoia, il Drago, Grosseto, il Grifone, Volterra, l'Aquila, oppure Massa Marittima, il Leone con dei gigli. La terza Tarsia è quella di un'aquila imperiale, che risale al secolo 300, e che simboleggia il potere civile medievale. La quarta Tarsia invece è un'allegoria del colle della Sapienza, e qui la Sapienza, che è raffigurata come una donna, dona a Socrate una palma. E a Cratete, che è un filosofo cinico greco dell'età ellenistica, originario di Tebe, a Cratete dona un libro chiuso. Questo è il simbolo della trasmissione della verità da parte di una figura spirituale. E qui troviamo questa espressione. Quale sarà la ricompensa al saggio che raggiungerà la vetta? La ricompensa sarà la palma della serenità, che vuole rimandare probabilmente al sentimento di pace e di armonia col cosmo che raggiunge l'illuminato, che raggiunge il santo, il beato, colui che si eleva allo spirito divino. E ancora, l'ultima Tarsia rappresenta la ruota della fortuna, e questa ruota ha al centro il re, con attorno tre figure. Alla cornice troviamo quattro esagoni, dove sono state rappresentate delle figure, come quella di Epiteto, di Aristotele, di Euripide e di Seneca, che quindi rimandano anche qui ad un raggiungimento di una intimità con il Logos. Pensiamo alla filosofia di Seneca e di Epiteto, dunque lo stoicismo, dove il Logos era centrale, l'adeguamento a questa razionalità della natura, immanente nella natura. Un altro tratto interessante sono le Navate, dove sono rappresentate le Dieci Sibille, la Sibilla Eritrea, quella Delfica, quella Cumea, quella Cumana, quella Persica, quella Libica, quella Ellespontica, quella della Frigia, quella Samia e quella Triburtina. Le Sibille, che sono figure storiche, realmente esistite durante l'epoca dell'impero romano, sono delle vergini, ispirate dal Dio Apollo, quindi persone pure di cuore, e che hanno una grande dote e delle virtù profetiche, che rendevano i loro responsi, dettati proprio da questo contatto col Dio Apollo, oggetto di consultazione da parte dell'élite romana, e che si esprimevano in termini oscuri, criptici, appunto, sibillini.